Una volta che abbiamo preparato tutte le basi, con una bocchetta andiamo a formare dei buchi sulle delizie. Le inzuppiamo con il limoncello e prendiamo la crema bella raffreddata. La lisciamo un altro poco, aggiungiamo un po' di grattugiata di limone bello fresco all'interno e la andiamo a alleggerire con della panna montata. La mescoliamo bene, la panna deve essere più o meno due terzi del peso della crema. Riempiamo un sac a poche munito di bocchetta liscia e andiamo a riempire il pan di spagna. A questo punto aggiungiamo altra panna, un po' di limoncello e frustiamo bene fino a renderla bella più liscia, più morbida. Non c'è un peso preciso, decidiamo noi. Iniziamo a sformare i pan di spagna pieni, li mettiamo su un vassoio e gli facciamo un'altra bagnata di limoncello. A questo punto tutto è pronto, iniziamo a glassare le nostre delizie. Quando siamo pronti, prendiamo della panna montata e le andiamo a decorare. Io faccio così, voi logicamente potete fare a piacimento. Facciamo un'altra grattugiata di limone sopra per dare un tocco di freschezza. e le decoriamo con delle foglie di limone. Io metto la mia firmetta sulle delizie. Io metto un'altra grattugiata. Grazie a tutti